Sattoria Teatro Comunale di Bologna, parte del gruppo delle mitiche lavoratrici intorno ai nastri, pizzi e merletti per mettere a posto questo spettacolo. La regina della Sattoria, Stival Merighi, cosa ne pensa? Ma io non ti parlo neanche più! Almeno l'umore è buono. Lì è complicato, complesso? No, è tutto normale. È tutto normale, sta tutto nella norma. È tutto nella norma, facciamo l'italiano in Algeria. È tutto nella norma. Bene, qualcuno mi racconta qualcosa di questo spettacolo. Che bello stare qui, la falsità. E guarda come gioca con la seta. Bellissimo stare qui, abbiamo appena avuto il rinnovo del contratto. No, meraviglia questo posto, entusiasmato. Allora, queste famose mutande... Scusa, questo non è mica la falsità. Si cercano le culotte per le signore in scena, alla ricerca delle mutande. Ci sono nere? Ma no. Magari non do vuoto. La bellezza di questa Sattoria è la leggerezza, bisogna dirlo. Ce l'abbiamo. Una piccola occhiata alle cose, appese. Tu dici che io mi ricordo che c'era un'altra generica. E la Lia cerca, cerca le mutande. Arrivato anche il fattolaio. Di fiducia. Dalla Sattoria per il momento è tutto, al prossimo incontro.